La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, eccoci alla nostra rassegna stampa, partiamo con il mattino. In apertura si parla di vaccini, la terza dose servirà a tutti, lo dice Abrignani del Comitato Tecnico Scientifico, l'obiettivo è il 90% di immuni avanti con green pass e mascherini al chiuso, certificati a quota 100 milioni, il governo intanto apre ai vaccinati Sputnik nel Regno Unito e balzo dei contagi. Di lato, ballottaggi, seggi vuoti, cresce ancora l'Italia del non vuoto. Andiamo sul centro pagina con lo sport, il Napoli incornati, Osimen manda il toro, KO, ottava vittoria di fila e primato. Sempre sul centro pagina, monopattini, casco e assicurazione saranno obbligatori, il decreto infrastrutture, la camera accelera, stretta sulla sicurezza, divieto di fumo al volante, multe salate per chi si distrae con lo smartphone. Poi l'ordigno ipersonico, Cina, il missile segreto che beffa gli Stati Uniti e spaventa il mondo. Di taglio basso, pensione anticipata fino a 5 anni, sarà più facile assumere giovani, per le donne possibile uscita a 58 anni e a segno tagliato. Questa era la prima pagina del mattino, andiamo a vedere in primo piano le misure anti-Covid. 100 milioni di QR code per trasporti e fabbriche, un altro giorno della verità. Primo lunedì con i pass nei luoghi di lavoro, ancora 3 milioni i non immunizzati. A Torino, farmacie assaltate per fare il tampone e alla fine interviene la polizia. Il dato fa oggettivamente impressione. I green pass scaricati fino a venerdì scorso hanno superato quota 100 milioni, con uno sprint registrato a cavallo dell'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione per i lavoratori. Tra il 14 e il 16 ottobre sono stati scaricati ben 2,5 milioni di QR code, con il record toccato proprio venerdì 867.039. Ed è questo che rende il dato un po' meno allettante. I 100 milioni di pass scaricati non comprendono solo le vaccinazioni, che pure hanno beneficiato del cosiddetto effetto green pass, favorendo l'iniezione di 500 mila prime dosi in più in 30 giorni, ma riguardano anche i certificati di guarigione e i tamponi negativi. Rimaniamo su questa pagina. Il governo apre ai vaccinati Sputnik. I ristoranti richiamano gli stagionali. A livello burocratico la situazione del vaccino russo Sputnik, almeno per ore risolta, i cittadini di San Marino hanno ottenuto la proroga fino al 31 dicembre e potranno entrare in Italia anche se immunizzati con il farmaco del Cremlino, non riconosciuto da EMA. Gli autotrasportatori dell'est Europa invece sono esonerati dall'obbligo del green pass, ma possono solo accedere ai luoghi deputati alle operazioni di carico e scarico e a condizione che siano effettuati da altro personale. Andiamo avanti, ancora sul mattino. Pensione anticipata verso la manovra. Fino a 5 anni per assumere giovani si profila l'allargamento del contratto di espansione alle imprese più piccole, conferma per opzione donna, uscita a 58 anni ma con un assegno decurtato. Il capitolo pensioni nella manovra è ancora in fase di scrittura, ma alcune misure, secondo fonti di governo, dovrebbero trovare sicuramente spazio all'interno della prossima manovra di bilancio. Due, in particolare, la prima è un rafforzamento del cosiddetto contratto di espansione. Si tratta dell'uscita anticipata dal lavoro fino a 5 anni, prima dal momento in cui si maturano i requisiti di legge. Il contratto di espansione prevede la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro per il personale che si trova fino a 5 anni dal raggiungimento della pensione. Durante questo periodo il datore di lavoro corrisponde a un'intennità mensile di accompagnamento alla pensione. Dopo varie modifiche, il contratto di espansione è stato finanziato per tutto il 2021 e reso disponibile per le aziende da 100 dipendenti in su. Nella manovra lo strumento verrebbe rifinanziato e allargato alle imprese con almeno 50 dipendenti. Un altro strumento per il prepensionamento che quasi certamente troverà spazio nella prossima manovra sarà opzione donna. Si tratta del prepensionamento delle lavoratrici che hanno un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni o a 59. Per poter accedere alla pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Opzione donna è una misura che permette l'uscita anticipata dal lavoro fino a 9 anni di anticipo. Ma l'altro lato della medaglia è che la possibilità di prepensionarsi comporta una consistente decurtazione dell'assegno che a seconda degli anni di anticipo rispetto alla vecchiaia può comportare un taglio sulla pensione tra il 20 e il 30%. Lasciamo questo argomento. Andiamo avanti. Monopattini. Arrivano casco e assicurazione obbligatori. La Camera accelera per il decreto infrastrutture di vieto di fumo al volante. Ne aspreite le multe per chi telefona mentre guida potenziato il bonus taxi. Dunque divieto di fumo per chi guida, multe salate per chi si distrae con lo smartphone, potenziamento del bonus taxi, estensione temporale del foglio rosa da 6 a 12 mesi, giro di vite alle botticelle, veicoli a trazione animale molto conosciuti a Roma. Ma soprattutto arriva la stretta sui monopattini. Sono molti i temi oggetto degli emendamenti al DL Infrastrutture, denominato sicurezza stradale, all'esame della Camera. Si comincia a votare domani per terminare giovedì. Sul piatto ci sono 434 proposte di modifica. Lasciamo con questo il mattino. Ci spostiamo sulla città. In apertura appalti, voti e cooperative. C'è la fila davanti al giudice. Oggi gli interrogatori a Salerno, Savastano, pronto a chiarire. Altra deposizione per Zoccola. Parliamo di amministrative. Battipaglia e eboli. Alle 15 nuovi sindaci. Trionfa l'astenzione. La cronaca a Montesano. Tragedia sul lavoro. In Toscana per un uomo di Montesano sulla Marcellana. Muore sotto il pilone. Di lato ribaltone Salernitane. Esonerato castorico. L'Antuono firma e già allena. Riberì. Le reazioni dei tifosi che si dividono. Speriamo bene. Di taglio basso. A Battipaglia l'antimafia stop per i Desarlo. Interdittiva del prefetto all'AD Logistica partono i ricorsi. Il prefetto blocca ancora i camion dei Desarlo. Ai piani alti degli uffici di via Spineta a Battipaglia. Quartier generale dell'AD Logistica. Colosso dei rifiuti con sedi pure a San Vittore del Lazio e a Marsicovetere. Finisce la seconda interdittiva antimafia. Scandagliate le relazioni commerciali dell'impresa battipagliese con altre aziende. Soprattutto per gli appalti a Roma. E poi la cronaca a Salerno. Dai fastidio. Malmenato uno spazzino della Salerno pulita. Lasciamo la città. Ci spostiamo sul quotidiano del sud. In apertura si parla di Salernitana. Castori ha pagato per tutti. Esonerato l'allenatore della promozione in A arriva Colantuono. La società gli rimprovera i risultati e l'eccessiva remissività. Molto perplessi i tifosi che solidarizzano con il mister congelato in una notte febbrile. Congelato, scusate, in una notte febbrile. Centropagine. Quindi il nuovo tecnico oggi già a lavoro. Ottanta fiducia, dice, nella salvezza. Di lato. Oggi Savastano Day in tribunale. Tensione alta. A Salerno, Salerno pulita, aggredito un operatore. Poi la sanità, ginecologi, obiettori nel Salernitano. Il record regionale. A Capaccio, Edoardo ucciso per strada in Brasile. Familiari avvisati soltanto ieri. Nel golfo di Policastro. Alta velocità. Tensioni e proteste. Sabato in piazza. Di taglio basso il libro. Innamorato il socialista. Padre del Parco del Cilento. Primo firmatario della legge. E poi la tragedia dell'uomo di Montesano. Vincenzo. Morte sul lavoro. In Toscana. Questa era la prima pagina del quotidiano del Sud. Rimaniamo. Su questo giornale. Parliamo di amministrative. Incombe l'allarme affluenza. ai ballottaggi. Calo al 26,7%. Roma, Torino, Trieste. Tre realtà strategiche per il Paese. Sono 63 i comuni interessati. Urne aperte. Ma poca gente in file. Questa è la fotografia del primo giorno di ballottaggi per le elezioni amministrative 2021. Nonostante si decidano i prossimi 5 anni di città come Roma, Torino e Trieste. Tre realtà strategiche per il Paese. a livello politico ma soprattutto economico. Se a livello nazionale alle ore 12 aveva votato meno del 10% degli aventi diritto sul totale e dei 63 comuni interessati, alle 19 il dato è stato del 26,71%. Un incremento ma sempre sotto la soglia del primo turno che era al 31,65%. A Roma, dove i riflettori sono puntati sulla sfida tra il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, e il frontman del centrosinistra, Roberto Gualtieri, il dato ha fatto scattare l'allarme. 25,94% e lasciamo il quotidiano del sud. Con questo diamo un'occhiata alla prima pagina di Cronache. L'apertura, assunzioni di amici e parenti prima delle elezioni, pressioni di due consiglieri sulle coppe. Infornata di cognomi eccellenti in varie società collegate al comune, l'indagato potrebbe essere riascoltato per i mercatini di Natale e il villaggio di Babbo Natale. Sono le dichiarazioni queste di Zoccola che infiammano la settimana sotto la testata. Comanda ancora lo Tito, via Castorice, colantuono, farneticante comunicato di Marchetti contro il tecnico della promozione. Andiamo sul centro pagina. Tringali nella bufera, il centro-destra attacca duramente Cidielli e Casciello, a Roberti chieda del silenzio della procura sulle denunce. Salerno pulita, dipendente aggredito a Piazza della Concordia, gesto vile. Salerno, presidenza del Consiglio a Lofredo, domani la prima giunta. Di taglio basso, eboli e battipaglia, poca affluenza, ballottaggio, vince l'astenzione. Oggi i due sindaci. E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Diamo la linea alla regia. Rieccoci, tornati in studio, riprendiamo la rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno. In apertura l'inchiesta a Salerno, voti e appalti, parla Savastano, le cop, la gioia per le elezioni alla regione, i timori per la nuova gara, tutti in retroscena. Oggi l'interrogatorio del consigliere regionale pronto a rispondere alle domande del giudice. L'intervista a Pachimemoli, giunta, scelte dettate dall'inchiesta, ma c'era bisogno di cambiamento. Di lato la pandemia, Covid, i contagi restano stabili, terza dose già per 3.000. Centro pagina, la polemica, graffiti in piazza, non è colpa dei writer, l'urban tourist, Trapanig, è vandalismo, noi siamo diversi. Poi l'omicidio ucciso in Brasile, prima del processo per droga in Italia, il giallo dichirico, pregiudicato di Capaccio, che era tornato nella sua terra d'origine. Di lato la polemica, Tringali finisce subito nel mirino del centro-destra. Nuova giunta e polemica sul neoassessore alla sicurezza e trasparenza. Nel mirino degli esponenti di centro-destra finiscono le ultime dichiarazioni dell'ex magistrato sulla volontà di volersi confrontare con Franco Roberti, già procuratore nazionale antimafia, assessore alla legalità della regione, attuale eurodeputato del PD. Per i ballottaggi, battipaglie e eboli, fuga dalle urne, affluenza a picco al secondo turno. E questa era la prima pagina del mattino di Salerno. In primo piano, l'omicidio, il giallo ucciso in strada in Brasile, prima del processo in Italia, vittima chirico, pregiudicato di Capaccio, tornato da poco nella terra in cui era nato, convocato come testimone a Salerno, era coinvolto in un traffico di droga. A giorni avrebbe dovuto testimoniare in un processo per spaccio di droga che lo vedeva imputato dal Brasile, dove si era trasferito da un po' di tempo. E' arrivata invece la drammatica notizia. Il pregiudicato di Capaccio Pestum è stato assassinato. Il 36enne era originario proprio del paese sudamericano, ma residente da anni nella città dei Templi, dopo essere stato adottato da bambino da una famiglia capacese. Lascia anche un figlio, sarebbe stato ucciso un mese fa circa, ma la notizia della sua morte è arrivata solo nei giorni scorsi a Capaccio. Rimaniamo su questa pagina. Ancora lacrime a Montesano sulla Marcellana. Un 47enne muore in un'azienda di Pisa. L'uomo manovrava un muletto ed è rimasto schiacciato tra un montante e un pilone. Ancora lutti e lacrime nel Vallo di Diano a piangere ancora una volta la comunità di Arena Bianca, frazione di Montesano sulla Marcellana. Nella giornata di sabato ha perso la vita Vincenzo Garone, un 47enne che viveva in Toscana per lavoro. e la morte è arrivata proprio mentre il valdianese stava lavorando. Di taglio basso, Salerno pulita, ennesima aggressione ad un operatore. Due extracomunitari lo insultano e lo picchiano mentre lavora l'ira dei sindacati. Natella, interverremo. Lasciamo con questo il mattino, ci spostiamo sul Quotidiano del Sud, andiamo nel Golfo di Policastro. Alta velocità, il caso sul tavolo del Ministro procede senza sosta la battaglia del Comitato Civico 1987. Sabato, altra protesta. Dai comuni, San Pietro Altanagro, avviso pubblico per i buoni mensa. E poi, a Ottati, puliamo il mondo nel centro storico. Altavilla, Silentina, Ampana, giornata per la microcippatura. La cronaca di Montesano, morto sul lavoro in Toscana. Vincenzo era valdianese di Montesano. Garone lascia la moglie e un figlio. Andiamo avanti, spostiamoci su cronache. In primo piano, l'inchiesta di Salerno, amici e parenti eccellenti assunti nell'imminenza delle elezioni. Lo avrebbe rivelato nel corso delle sette ore di interrogatorio Fiorenzo Zoccola, che potrebbe essere riascoltato. Pressioni sulle cop di due consiglieri comunali per far assumere di questo e tanto altro ha parlato nell'interrogatorio. Assunzioni ad amici e parenti fatti nell'imminenza delle elezioni dalle società collegate al comune che avrebbero favorito alcuni candidati del centro-sinistra sarebbe uno dei punti chiave dell'interrogatorio secretato dalla procura con nomi anche eccellenti che sarebbero stati indicati dall'indagato nel corso delle sette ore così come avrebbero fatto i nomi di due consiglieri comunali uno riconfermato, l'altro no che avrebbero avuto rapporti con alcune cooperative è fatto pressioni per far assumere delle persone qualcuno pare legato anche alla malavita locale e oggi tocca all'assessore Nino Savastano all'ex assessore scusate Nino Savastano oggi ai domiciliari che dovrà rispondere al GIP andiamo avanti la cronaca torre orsaia violenza sessuale in carcere un 58enne da oltre un anno era sottoposto alla detenzione cautelare domiciliare dopo essere stato condannato per il reato di tentato omicidio nei confronti dell'uomo era stata presentata una denuncia da parte di una donna di 37 anni e anche qui su cronaca la tragedia di Montesano operaio muore in Toscana schiacciato Vincenzo Garone aveva 47 anni e andiamo avanti giovane capacese ucciso in Brasile la notizia dell'omicidio è trapelata solo ora in Italia avrebbe dovuto testimoniare in uno dei processi per spaccio presso il tribunale di Salerno Vallo di Diano slitta di nuovo l'udienza preliminare del caso di Rosaria Lobascio ancora un difetto di notifica ancora un rinvio al 21 dicembre per discutere sull'archiviazione o meno del caso di Rosaria Lobascio la decisione è arrivata dal tribunale di Nocera si tratta della 22enne di Sala Consilina morta a seguito di un'operazione allo stomaco nell'ospedale di Mercato San Severino di Taglio Basso anche il Cilento era presente alla manifestazione antifascista della CGL Cisleville a Roma di sabato scorso in piazza San Giovanni e termina qui la nostra rassegna stampa grazie per essere stati con noi vi auguro buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti